Allora ragazzi, io vi informo soltanto, poi vedete voi se tentare la fortuna. C'è, pare, un glitch importante per trovare un'icona brasiliana. Adesso vi spiego come fare. Come sempre, prima di partire, vi ricordo la promo di Natale, fcmaglia.com, acquistate maglie da calcio, tute, maglie retro, eccetera. Entro il 24 dicembre avete lo scontro del 15% con il codice LUCI15, ogni due maglie acquistate ne avete un omaggio. Vi basterà scriverla nella nota dell'ordine. Allora ragazzi, intanto vedrete scorrere un video qua in alto sopra di me, ed è un video tratto appunto da questo creator. Allora, il glitch in cosa consiste? Partiamo dal presupposto che secondo me è una boiata, ma ci sono tante testimonianze, e andate a vedere la pagina che adesso vi mostro, perché effettivamente ci sono veramente tante testimonianze che hanno trovato icone brasiliane. Ovviamente non per forza Ronaldo o Ronaldinho, ma ci sono tante icone brasiliane. Come funziona? Dovete, come avete visto nel video, acquistare semplicemente una carta bronzo, anche a 200 crediti, prima di aprire il pacchetto icona. Attualmente c'è attivo il pacchetto icona base, e questa persona qua ha sculato Ronaldo, ovviamente, direte sarà un caso, e lo penso anche io. Fatto sta che ci sono tanti video, anche sotto lo stesso tweet che vi ho mostrato prima, con testimonianze di chi ha trovato Garrincia, chi ha trovato Ronaldo, chi ha trovato Cafu, eccetera, eccetera. Ora, non sto assolutamente a consigliare di farlo, ma, semplicemente, avete un pacchetto icona da aprire? O magari volete fare l'icona base? Beh, semplicemente, prima di aprire il pacchetto icona, provate a comprare una carta bronzo. Poi, mi fate sapere nei commenti come è andata, e vi auguro una buona fortuna, ma ripeto, io non ci credo.